Ciao ragazzi, volevo parlare un pochettino delle sperimentazioni sull'uomo che verranno fatte nel 2020. Tante aziende diverse, da tante parti diverse del mondo, stanno per iniziare tutte quante nel prossimo anno sperimentazioni sull'uomo per vedere se sono sulla strada giusta per trovare una cura definitiva al diabete tipo 1. E si parla dall'Italia, a Israele, agli Stati Uniti, alla Svizzera, da tantissime diverse parti del mondo e come se si fosse dato appuntamento, stranamente tutte quante le prove sull'uomo, dopo aver fatto magari degli studi preliminari sugli animali andati bene, avverranno nel 2020. Allora, volevo parlarvi di un po' di cose che ho letto su internet. C'è molto interessante il progetto di una start-up israeliana, dove andranno a sperimentare una patch, quindi una specie di bottone, che ha dei microforellini, all'interno del quale verranno posizionate delle beta-cellule provenienti da cellule staminali embrionali, quindi si hanno delle cellule staminali embrionali con un determinato processo, si differenziano fino a ottenere delle cellule beta funzionanti, che quindi stimolate dal glucosio circostante, produrranno insulina. Questa insulina uscirà dal filtro, come se fosse una bustina dei deghi che gli fa da filtro, usciranno da questa patch e l'insulina andrà nel corpo ad abbassare i livelli di glicemia e questa patch, essendo tutta quanta bucarellata, farà in modo tale che verrà ben assorbita dal corpo. L'idea loro è di trapiantare questo bottoncino, all'interno queste cellule vive, nella gamba e la novità rispetto alle informazioni che avevo in precedenza è che useranno una specie di letto biologico per aumentare la probabilità di sopravvivenza di queste cellule. In particolare parlano di un polmone di maiale, quindi diventeremo bio, ci sarà una parte proveniente da cellule staminali, quindi da tanti individui, una parte invece sempre di sostanza organica è proveniente dal maiale perché mettendo le cellule da sopra hanno visto che potrebbero sopravvivere di più. Dicono che le cellule beta non è che dove le metti vivono, come i funghi hanno bisogno di un determinato terreno che abbia determinate caratteristiche per poter crescere floridi, allo stesso modo le cellule beta hanno bisogno di una situazione intorno di nutrizione, di protezione tale che loro hanno individuato come il polmone del maiale, lavorato in un modo particolare, messa all'interno di questa chiamiamola monetina, anche se nell'ultima immagine ho visto che era una specie di cerotto gonfio rettangolare, in quella condizione potrebbe aumentare di molto la probabilità. Indicano già un costo possibile, costo possibile che loro indicano è 50.000 dollari per l'operazione, danno una cosa indicativa di quello che potrebbe essere, di 50.000 dollari per questa operazione e loro pensano che potrebbe durare almeno due anni, quindi darti due anni di autonomia dall'insulina e loro prevedono una cosa nell'ordine dei 3-4 anni, quindi mi sembra incredibilmente presto per poter avere risultati, ma insomma l'idea loro è ottimistica. Per quello che riguarda le produzioni di cellule beta, loro potrebbero ricorrere a una loro produzione, quindi forse sono in grado, forse stanno studiando per essere in grado di produrre cellule beta da cellule staminali e embronali o altrimenti potrebbero ricorrere alle cellule prodotte da SEM Therapeutics, che è una società americana, a cui un dirigente invece è italiano, quindi si può sentire su YouTube se volete andare a vedere una conferenza, scrivete Bastiano Sanna, che è italiano che in Assassari ha fatto una conferenza dove spiega molto di questo, di quelli che sono i processi per ottenere queste cellule, perché loro della SEM Therapeutics hanno una specie di esclusiva, di brevetti, insomma, che per la prima volta sono in grado di produrre le cellule beta e pensano anche di poterle produrre in modo industriale. Quindi una volta ottenuta una cellula beta dalla SEM Therapeutics, messa una specie di brodo primordiale come il lievito, si va a moltiplicare a milioni e a milioni e quindi poter dare una quantità praticamente infinita e quindi andrebbe a togliere la limitazione quantitativa, perché fino adesso non è che non esisteva la cura, perché ci sono state molte persone che sono state trapiantate, però questa cura veniva per forza di cose limitata a un numero strettissimo, limitatissimo di pazienti, proprio perché le cellule, fino ad ora, le cellule beta, venivano estratte da cadaveri e non solo, questo limita molto, perché chiaramente cadaveri è molto importante quando si prende un organo dal cadaveri, dipende anche la qualità, quindi in conto estrarre la pancreas da una persona di 80 anni, la qualità è molto bassa, in conto è stata una persona ancora giovane, tant'è che molto spesso bisogna ricorrere, quando si fanno questi trapianti di cellule beta anche a due o più cadaveri e questo chiaramente limitava di molto il numero rendendolo nell'ordine delle migliaia, 2-3 migliaia di potenziali di persone che possono fare questo tipo di trasfusione, quindi essendo molto limitata la fonte, si è tentato di limitare al massimo, quindi i pazienti candidati al trapianto, quello fatto insomma inventato da Camillo Ricordi, che ricordo non è un trapianto di organo, non è che è un trapianto del pancreas intero, riescono a estrapolare queste cellule, diciamo come se fosse una centrifuga che riesce a estrapolare queste cellule, queste cellule una volta semplicemente messe all'interno di una siringa, venivano messe all'interno del corpo umano, venivano e vengono perché tuttora è l'unica cosa che assomiglia a una cura, queste cellule vengono messe in una vena, questa vena porta al fegato, nel fegato rimangono intrappolate e dalle immagini si vede che li riescono ad essere irrorate dal sangue e queste cellule cominciano a vivere, si adattano e cominciano a produrre insulina, solo che è solo una piccola parte di queste cellule che cominciano a produrre insulina e solo che molte tendono a morire, molte tendono a morire di queste cellule qua, tant'è che l'indimendenza dall'insulina c'è nella maggior parte dei casi per un periodo limitato, poi magari il diabete diventa comunque meno severo perché qualche cellula sopravvive, c'era una conferenza che mi ricordi che stava con una delle prime diaprenateate che oramai erano 15 anni che aveva fatto il trabianto, ancora aveva le sue cellule viventi e tra l'altro insomma in una videotelefonata con un operatore che si trova a Miami, gli diceva qui il professor Camillo mi fa fare trattamento di vitamina D, omega 3 o uno o l'altro, tutti e due non mi ricordo, ma diceva ad altissime dosi, perché probabilmente, immagino, visto che in quella stessa conferenza si era parlato del protocollo Poseidon, vitamina D e omega 3, probabilmente si voleva vedere se mettendo il corpo in una situazione di vitamina D alta che ha delle capacità immunoregolatorie e di omega 3 che ha delle proprietà di abbassare il livello di infiammazione dell'organismo, quindi abbassando l'infiammazione magari si crea una situazione tale che potrebbe far vivere di più queste cellule, quindi farle vivere di più, farle attecchire meglio, per farle attecchire meglio c'è una società svizzera che sta facendo delle prove con mi sembra la placenta o dei liquidi intorno alla placenta, perché il discorso è, se noi abbiamo un bambino dentro la pancia, perché il nostro sistema immunitario non lo riconosce come un corpo estraneo, come quello in effetti è e non lo va a eliminare, quindi potrebbe essere stesso che il nostro organismo potrebbe aver creato dei liquidi, dei materiali tali che fanno calmare il sistema 126 leggermente decrescente, valore basso previsto in 36.000 Allora adesso finisco il video e chiamo, chiamo mio padre e gli chiedo, io dico a mio figlio di tagliare il gelatino, ma aveva fatto il pranzo e manca il gelatino, allora quindi questa società svizzera sta percorrendo questa cosa qua per vedere che queste cellule trapiantate embrunare o tagliate, perché che siano, possano sopravvivere di più se trattate insieme a questa cosa proveniente dalla placenta, non mi chiedete se era un tessuto o se era un liquido, un liquido di estraneo, però quello potrebbe essere un metodo per tentare di farle attecchire meglio. Altro metodo abbiamo detto di questa azienda svizzera, cioè questa azienda israeliana che ha pensato al...